Siamo con il capitano Gemina, una partita non diciamo semplice, comunque vada poi alla fine il risultato quello che conta. Sì, diciamo che i tre punti servivano per confermare la Coppa Marche e oggi abbiamo giocato bene, abbiamo fatto tante azioni, però poi come sempre su 10 azioni che facciamo ne finalizziamo solo 4, però sono molto contenta della nostra partita. Una tripletta che ovviamente non succede. Sì, diciamo che a parte con il Boga erano un paio di partite che stavo a secco, però diciamo che oggi ero un po' forse più motivata o stavo meglio, visto che sono due o tre settimane che non stavo benissimo, però vabbè, sono contenta. Abbiamo visto il mister abbastanza tranquillo in panchina, mediamente si smagna e urla un po' di più. Gli abbiamo dato un po' di calmanti, perché il mister oggi stava tranquillo, diciamo come ho detto prima, col fatto che abbiamo fatto belle azioni, sicuramente a lui gli ha fatto piacere.